Sul alcol Sul buco voglio gooo Perché ha avuto un tacchino secondo te? Beh non saprei però ne ho avuti anch'io Di tacchini? Mamma! Mamma? Yeah it's now time to meet her parents Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ragazzi Come sapete se mi seguite su Instagram ho preparato questo concorso incredibile Trova la pannocchia da sposare E adesso faremo questo dating show in cui vi accoppieremo a vicenda E non lo so mi sto per mettere a piangere Per farlo utilizzeremo un'applicazione che si chiama Hazar Che ringrazio per aver sponsorizzato questo video Che cos'è Hazar? E poi lo spiego io subito Hazar è un'applicazione di dating per fare videochiamate con gente da tutto il mondo Quindi sì anche la Corea Come funziona? Semplicemente aprite l'applicazione Fate il vostro profilo E vi troverete immersi in un mare di pannocchie Una volta che avete piaciuto le persone Qual è la particolarità di Hazar? È che si può videochiamare Videochiamare subito Quella persona così la vedete in faccia Se è una persona che si fa tutto il fotoritocco così E non è così Subito tac sgamata Tra l'altro in più se usate il codice soulmafia Potrete sbloccare la Corea tra le nazionalità E quindi se volete proprio infilarvi direttamente nel campo di pannocchie Infilarvi nel campo di pannocchie suona male Come funzionerà oggi? A uno a uno i ragazzi verranno qui Gli vado a vedere prima le tre foto E poi il video introduttivo che mi avete mandato per conquistarli Perché solamente una, una ragazza per ogni ragazzo Poi verrà chiamata alla fine E direi di incominciare presentando i ragazzi Jacob 27 anni si definisce positivo, sorridente e palestrato La sua ragazza ideale deve essere simpatica, carina e alta esattamente un metro e sessantotto Sok 26 anni si definisce timido, altruista e sensibile La sua ragazza ideale deve essere estroversa, premurosa e con un bel sorriso Short guy si definisce basso ma alto La sua ragazza ideale deve essere carina e con grosse tette Ecco, queste sono le pannocchie prescelte, veramente dei bonazzoni Cominciamo con Sok E comincerei da Ashley Magari non è matematico ma è gnocco Mi nome è Ashley, mi sono 20 anni, mi sono 20 anni e mi sono di year di rabbit Mi considero mi una molto entusiastica, loyal e molto creativa E questo è per te Andiamo avanti con la prossima partecipante che è Iside Ehhh, guarda Iside Guarda Iside Hello, I'm Iside, your positive girl from Florence I like fashion, traveling and painting and I'm pretty good at it so I try to make something for you, hope you like it Ehm... 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 Ehmhm... Datemi che ringrazio Dicca Flavia, come Flavia Bento Flavia Bento Bel colore di capelli, poi mi insegna a farmi anche a me che sempre, sempre si ha sti capelli castanei per poi orrendi I'm 23, my measure is physical education and my hobbies are singing, dancing and play the piano Con te partirò I know Ok, abbiamo visto tutte e tre le partecipanti è il momento di capire qual è la scelta di Sock Iside, brava Iside Adesso la contattiamo così si prepara per l'appuntamento al buio Eccomi qui con Jacob il palestrato, incominciamo con Benedetta Benedetta It means blessed in Italian Will she have your blessed? We'll see. Hi, I'm Benedetta I'm 18 and today I will show you my dancing skills Is she 18? Yeah Bye! I love the way she casually Bye bye! La seconda ragazza per Jacob è Marianna She is like fun and curious Hello, I'm Marianna I'm 22 years old and I have a lot of talent I know how to play the flute I know how to rap along with Nicki Minaj and I also know how to draw cute dogs Giovanni muchacha, taught me where I hope you had fun with me Bye bye! I love you I love you I love you but we become friends please I don't care if she's my friend I like it I like it The next girl is Noemi It's already a beautiful name because Noemi Casto è pure no Oh! Enza Ech Ech Well, she must be a model, right? Hi Jacob, this is Noemi I'm 20 years old and I'm from Rome and last year I moved to Milan to work as a model I will try to impress you with some Spanish Por favor Quiero estar contigo para siempre Te quiero mucho Quiero verte Quiero tocar tu piel Quiero tocar tu piel Quiero tocar tu piel cosa vuol dire in spagnolo? So, which style do you like? I've met one or two the type of girls Ok So now you wanna try something different? I'll go with three Oh, that's such a good pingue really, Jacob That's called Noemi Here we go Here we go The short guy Are you ready? I'm very excited because I get to see a lot of girls We start from Ana Maria Ok Hi, my name is Ana I am 22 years old and today I will show you what I usually do in my free time I have already prepared my tools for painting something She's yours She's yours First of all, let me show you my previous works I usually paint when I have something on my mind I usually paint when I have something on my mind I paint on something for you because it helps me a lot actually This is for you Oh 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 my god Oh Oh my god Why did you give me three? Ok And let's go with Giuliana She's 160 Just like you Ok Hi, I'm Giuliana I'm 22 I'm a really friendly and determined person I study industrial design but I'm also a moderate since I was six years old Oh Oh my god, brava Bravissimo E l'ultima contestante di contestante si dice Contestante si dice Concorrente di oggi è Linda Come sarà Linda? Riuscirà a conquistare lo Shorgai? Sarà bassa abbastanza per lo Shorgai? She has three aquariums She likes Japan She owns... Oh, ok She likes Japan Yeah, like you Hi, I'm Linda I'm 27 years old This is one of my passions This is my biggest aquarium I have two other aquariums There is the weirdest fish I've ever seen His name is Orlando And he comes from Asia I hope to hear from you again So I'll be able to show... To show him to you Do you like fishes? I do like fish Adesso abbiamo l'ultima contestante di oggi You ready? My name is Jack I'm Italian, 29 I'm very sensitive, positive I like to stay with people So I'm very friendly And I'm gonna sing a song for you Because I'm running out of time He's gonna sing a song for you He's gonna sing a song for you No, it's so hard I'll go for the... The Japanese one The... The Japanese one She's not Japanese Contattiamo Linda, allora Noemi, mi senti? Abbiamo il tuo futuro gym buddy, ok? Il... Con cui andrà in palestra tutti i giorni della tua vita Da ora in poi 3... 2... 1... Oh... Hello, Trico Ciao How are you? I'm good, how are ya? I'm fine, you know? The situation in Italy is shitty But I'm fine Wait, when is the... The marriage? Marriage? It's our first meeting I like... It's been only 2 minutes, eh? Why? Why? Why should we wait? What? You're right You're totally right And how... How do you say my name is in Korean? Noemi 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 Well, fair enough Who are older than you? You call them... Yes Oppa So you are my oppa And what I am for you? I am your baby girl in English Huh? Baby girl? Baby girl, we say Chucky 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 Oh my god I am your Chucky Happy to be your Chucky Right, we got married, right, right I forgot Do you go to the gym? I do, I do Before work, I go to gym She's a model, so many people can... Can see her body And she miss a lot of model guys Aren't you jealous? Well, it's okay Because I do competition every year Wait, wait, wait It's the misery Excuse me We're here I would say, right? I mean... I mean no words That was me I would say that it's the case To show them To your parents Because we're already there at this point, right? Mom! Mom? Yeah, it's now time to meet her parents Hi, good morning! How are you? Hello, baby! Hello! Hello! Oh, Daviro, nice to meet you! Nice to meet you too! Nice to meet you too! Future husband Ah... Everything is okay over there in Korea Everything okay? Well, it's getting better She's half Dutch and half Indonesia, you know? Oh, okay Indonesia I went there Yeah! Like for holidays Yeah, yeah, surfing Oh, that's great! The next week we call Inzo Miccio And organize the marriage Okay? Really? Oh my gosh! Oh my gosh! I don't know Okay! It was beautiful! Thank you! Bye! Don't forget me! You're in my heart right now, eh! You're in my heart too! Bye! 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 Yeah, absolutely! Oh, yes! Pronto! Ciao, ce l'abbiam fatta! Ciao a tutti! È il momento della reveal! 3, 2, 1... Guarda lilla! Con te! A che saluta, e... Hi! 한국 e la pochino jokinno? No! No! Vabbè, li piacerebbe andare tipo nei paizini un po' fino più... ...loali? ma io voglio fare questo c'è il prodotto di韓国 e l'ultimo più importante alcol VARO SUL MOKU ME ANDECI! Sì! SUL MOKU MAH ALLEGO! e poi vabbè possiamo andare a mangiare il piccante come piace a lui e poi magari un bicchierino di sojo va bene ci sta ma tu lo sai che lui era un idol una volta oh ne saran e lo hago so galle i purururun sessami uuuuuh handsome sto per mettermi a sputare arcobaleni ma che ti piace? pasta pasta? ottom pasta che ti piace? alio alio e olio? alio e olio dai alio e olio ci sta a te cosa piace invece come pasta? lasagna che cosa? lasagna bulla non sa cos'è la lasagna basta io io chiuderei qui sinceramente ciao che 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 premuroso poi coraggioso coraggioso e straverso che riesce comunque a parlare tranquillamente ok quindi non lui ok ciao no 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 voglio sapere lui invece com'è in realtà perchè comunque non non so è molto semplice è molto semplice è molto semplice ma si è molto semplice ma si è molto semplice e è molto semplice il tempo è finito adesso in base a questa video chiamata capiremo se lui sceglierà di continuare a parlare con te o no speriamo bene speriamo vai io sono contente siamo non 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 mi non 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 questo è è l'ultimo prima che non ciò ciò noi non non monta a incontrare l'uomo dei tuoi sogni i do like dogs i'm a dog person yes i'm a cat person okay i'm gay i used to have a lot of animals i even had a turkey really what the f*** you had a turkey yeah i don't know bro i had a turkey oh my gosh you said turkey what you guys are made all of your yeah so i heard you have three aquariums yes they are the first oh my god the plants are alive they're real they come from south america from a river in amazonia i have i have the last one and the weirdest jernando and he he's a bubble eye fish that's really cool wow he hopes on someone or something they can explode you know what that's so sad okay let's talk about the most happy fish that will explode she was just studying japanese oh you were studying japanese you have to know sure guy is fluent in japanese like for real i didn't say fluent but yeah i think it's the case of having a conversation in japanese basic base 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 www good what have you to eat? pasta how many pasta you consume? what kind of pasta you eat? cheese chees youtube Beh basta, siete perfetti direi Allora per adesso mettiamo giù e poi scopriremo il vostro futuro Ciao Quindi chiediamo allo short guy Vuoi continuare a vedere la tua amata? Sì dai, già che ne siamo ringraziamo a Zar per aver sponsorizzato questo video Vi ricordo che vi lascio il link qua sotto in descrizione per scaricarla E c'è il codice SeoulMafia per appunto sbloccare la Corea e parlare con ragazzi coreani E questo è tutto per questo video Ringrazio i ragazzi per essersi prestati a fare questo video Vi lascio il loro Instagram qua sotto per stalkerarli Anche se ora sono fidanzati, anzi sposati Noi ci vediamo nel prossimo video Pizza, carbonara, ciao Ciao